Benvenuti in questa nuova lezione in cui continueremo la trattazione dell'Unione Sovietica e in particolare del periodo sottostale, non tutto il periodo sottostale, ovviamente ci fermiamo per motivi organizzativi, per un certo ordine espositivo a 1939, cioè appena prima lo scoppio della seconda guerra mondiale. Come al solito vi ricordo che troverete nella descrizione del video il link alle slide come anche il link al blog. Proseguiamo il nostro discorso su Stalin. Ci eravamo lasciati parlando dell'enorme sforzo industriale che ha portato poi l'Unione Sovietica nella prima metà del 900 a diventare la seconda potenza militare industriale del mondo. Il lavoro nei settori industriali e nell'indotto ovviamente si contraddistingueva per la sua pesantezza, ma in qualche modo a temperare tale pesantezza vi era una componente, che comunque rimaneva, una componente ideologica. Perché? Perché nell'Unione Sovietica degli anni 30-40 sicuramente vi era un sistema ideologico finalizzato a favorire le prestazioni lavorative estreme. Se da un lato infatti non vi era attività sindacale, dall'altro appunto il regime favoriva ai lavoratori più produttivi con incentivi di carattere materiale e non. Ad esempio con il titolo di eroe del lavoro, le cui assegnazioni era addirittura annunciata attraverso i mass media. Quindi cosa significa? Che le condizioni degli operai rimanevano pessime, turni massacranti, e tuttavia l'ideologia che li portava a svolgere attività lavorative sempre più intense al fine di avere un certo prestigio sociale, o almeno il prestigio che formalmente gli assegnava il regime, come ad esempio eroe del lavoro. Tuttavia questo prestigio non si traduceva in un miglioramento nelle condizioni materiali. Emblematico ovviamente in questo caso è la figura di Alexei Stakhanov, che è un minatore, noi oggi parliamo di stakhanovismo proprio per questo episodio, per questo personaggio, che estrasse una quantità immensa di carbone durante un turno di lavoro notturno, circa una quindicina di volte quello che doveva essere, quella che doveva essere la quantità di minerale di carbone estratto per un turno notturno. E molti lavoratori sovietici diventarono emuli, cercano di copiare, di comportarsi come Stakhanov, perché? Perché vi era quell'ideologia, o perché venivano fatti da passare quei valori. Una retorica del lavoro che però non aveva sacrificato, diciamo, una retorica del lavoro che ovviamente era tutta a vantaggio del programma di industrializzazione, quindi dei vari piani quinquennali. Abbiamo già visto che l'agricoltura è stata sacrificata, o meglio, la popolazione agricola è stata sacrificata, abbiamo visto che si è arrivato addirittura in alcuni casi al cannibalismo. I beni, ricordiamo, i beni, i prodotti nel settore agricolo venivano sottratti, si creavano volontariamente delle situazioni di carestia perché quei beni dovevano essere venduti e con la rivendita di quei beni si finanziava appunto l'industria, in particolare quella meccanica, quella pesante. Anche a detrimento di quell'industria leggera, ovvero cos'è l'industria leggera? Quell'industria che produce quei beni di consumo, di consumo generale. Quindi possiamo pensare a le scarpe o gli abiti o altri oggetti di uso comune. E infatti gli operai, che pur venivano dalla retorica, dalla propaganda del regime favoriti, onorati nel caso in cui avessero dato performance, prestazioni lavorative eccellenti, tuttavia vivevano in condizioni che oggi non giudicheremmo dignitose. Perché? Perché potrebbe essere un problema trovare un paio di scarpe da lavoro o trovare un'abitazione decente. Solo il 6% della popolazione cittadina a livello medio abitava in una casa con due stanze. Quindi la vita dell'operaio russo sotto Stalin era sicuramente terribile. Ovviamente trattandosi di una vera e propria dittatura, questa dittatura dovette trasfigurare la cultura. Cioè renderla funzionale al regime. Una delle strade intraprese, che è una strada maestra quando si tratta di dittatura, è quello di inquadrare i giovani. Grazie a un sistema scolastico che abituava i giovani russi all'abnegazione e dal rispetto. Come pure la disciplina e in qualche modo al conformismo. Cioè conformismo che significa? Conformismo nel senso di conformarsi a quelli che sono i valori propagandati dal regime. Grande importanza ebbe certamente l'istruzione tecnica. Non è un caso. La Russia, di Stalin vuole diventare, l'Unione Sovietica meglio, di Stalin vuole diventare una potenza industriale e quindi si privilegia l'istruzione tecnica a scapito di quella umanistica. E del resto, proprio perché la Russia, l'Unione Sovietica, mi correggo di nuovo, voleva diventare una potenza industriale, non servivano certamente liberi pensatori, ma tecnici abili. Inoltre i giovani sin dal 1918, in realtà, quindi l'anno successivo alla rivoluzione del 17, erano inquadrati in un'istituzione che è l'Unione Comunista della Gioventù o Comsomol. L'inquadramento dei giovani, appunto, è una caratteristica comune di tutte le dittature della prima metà del Novecento, quindi parliamo ovviamente di riferimento, parliamo al fascismo, parliamo al nazismo. Anche l'arte, quindi non l'istruzione, la cultura, ma anche l'arte ovviamente viene in qualche modo inquadrata. Perché? Perché l'unico stile accettato, tutte le vanguardie sono rifiutate, tutti gli stili sperimentali sono rifiutati, a favore di una corrente che sarà poi definita il realismo socialista. Che semplicemente sono opere, i pittori che i contenuti sono chiari, i contenuti sono di da scalici, celebrativi del regime e della persona di Stalin, intorno alla quale ovviamente si crea un'immagine leggendaria. Questo è un quadro, forse si vede in piccolo, ma sul sito, sul blog si vedrà in grande. In questo quadro Stalin e Molotov con i bambini, qui ci sono tantissime immagini, dipinti, opere, che raffigurano Stalin nel ruolo di, in qualche modo, padre della patria, quindi vicino alle nuove generazioni. Del resto, ogni dittatore ha in qualche modo, sfrutta un'idea un po' paternalistica. un po' paternalistica. Vittime, ovviamente, della definizione del conformismo realista, cioè del realismo socialista, furono personaggi che per certi versi, almeno nel caso di Mayakovsky, ma anche Pasternak, erano in qualche modo sostenitori del boscevismo. Pasternak, lo ricordiamo, è l'autore del famoso, il dottor Givago del 57, che non potette ritirare il premio Nober per le critiche che aveva avanzato al regime. Se non ricordo male, in realtà il libro è stato scritto durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quindi è stato pubblicato successivamente. Mayakovsky, in realtà, si uccise nel 30 perché era entrato, pur essendo sostenitore della rivoluzione, era entrato, diciamo, tra le personalità non gradite al partito, e quindi si uccise nel 30. Alla creazione, ovviamente, di un'ideologia estremizzata del lavoro e al controllo della cultura, bisogna aggiungere anche la durissima repressione del consenso. Quindi da un lato abbiamo la costruzione del consenso, quella che si può definire una parts costruence, che è appunto fatto di ideologia, inquadramento della società, inquadramento dei giovani, definizione dei canoni a cui conformarsi, dei valori sia artistici, ideologici, politici, eccetera. Poi abbiamo una parts destruence, cioè una parts che ovviamente consiste nella repressione del consenso, e non si può non parlare dell'Unione Sovietica di Stalin senza parlare delle purghe. Ora, il termine purga deriva dal latino, ha la stessa radice del termine puro, purus, appunto, in latino, che sta ad indicare un atto di purificazione. Il termine, dunque, è utilizzato per indicare le modalità di repressione del senso politico del regime stalinista, quindi in particolare quando noi utilizziamo purghe, noi ci riferiamo a che cosa? Noi ci riferiamo appunto a Stalin, storicamente, ma non sono cose troppo diverse da le liste di proscrizione del passato. È chiaro che questa è una forma repressiva. Le purghe che cosa sono? Beh, che cosa sono? Sono sostanzialmente, iniziano quando viene ucciso Sergei Kirov, che è un dirigente del partito bolshevico. Ovviamente, come un meccanismo, diciamo, simile a quello dell'incendio del Reichstag, questo evento fu utilizzato in maniera strumentale da Stalin per utilizzare la polizia politica per liberarsi di tutti coloro i quali. Ovviamente, potevano anche solo lontanamente rivelarsi dei nemici del partito. La polizia era diventata un commissariato per il popolo e per gli affari interni, agiva spesso in modo arbitrario, si tenevano processi pubblici per i sospettati che spesso confessavano anche crimini non commessi sotto tortura o minaccia. Oggi sappiamo, ma lo sapevamo anche prima, che una confessione storta con la tortura in realtà non è una confessione valida, perché sotto tortura chiunque dice qualsiasi cosa pur di porre termine alle sue sofferenze. O minaccia perché magari la polizia politica avrebbe colpito dei familiari, delle persone care agli imputati o ai sospettati, insomma, a quelli che sono riputati come nemici. Quindi sono metodi che oggi sono più simili, diciamo, sono metodi che oggi potremmo definire tipici della mafia, ad esempio. Fra queste vittime ovviamente già citati Zinov, Evkamenev e Bukarin. Un altro strumento, quindi parliamo sempre di Stalin, parliamo di repressione, abbiamo parlato delle purghe, un altro termine che non può, che sicuramente è una parola chiave che entra in questo discorso, è sicuramente quello di GULAG. Ora, GULAG è un acronimo di un'espressione che è impronunciabile per me che non conosco in russo, però viene tradotta con direzione centrale dei campi di lavoro correttivi. Cosa sono questi GULAG? Sono dei campi di concentramento, la buona parte dei quali si trovavano nella glaciale steppa siberiana e in questi campi i prigionari ovviamente conducevano una vita di stenti e di lavori forzati. E la Russia stalinista era del resto caratterizzata da una cultura del sospetto. Ognuno poteva denunciare al regime il suo prossimo anche per motivi banali o semplici antipatia. Quindi quando si parlava prima di conformismo era per dire che, ad esempio, i gusti personali, i libri, i vestiti che si indossavano, tutto poteva essere causa di una possibile denuncia. Quindi era importante in quel regime essere in qualche modo grigi, essere neutri, passare inosservati, vivere nell'anonimato, non fare nulla che potesse destare l'attenzione perché vi era lo sparacchio di una purga e del successivo GULAG. Tra l'altro il clima del sospetto era ancora più aggravato perché anche coloro i quali mancavano a denunciare quello che sarebbe stato poi un sospetto o un indagato da parte del regime venivano a loro volta puniti. Venivano a loro volta puniti. Quindi sicuramente questo regime rende in qualche modo il rapporto tra i russi impossibile. E questo grafico qui, che magari si vede qui in piccolo, ma che è sul sito, è interattivo, è più grande. Voi potete andare col mouse sui vari pallini che rappresentano in corrispondenza degli anni e trovare le varie indicazioni. C'è il paragone tra i prigionieri, cioè vengono riportate due linee, due spezzate. Quella, color salmone, rappresenta il numero dei prigionieri che intorno alla fine degli anni 40, tu supererà il 2 milioni, è arrivato a 2 milioni e mezzo, se non sbaglio la cifra massima è 2 milioni e 6, per poi, diciamo, i dati che riportiamo sono dal 1930 al 1953, quindi l'ultimo anno perché nel 1953 sta il muore, e poi abbiamo sotto i morti, che nell'anno, nel picco, vanno intorno ai 400.000 o poco meno. Poi, a fine di questo video, presenteremo un'altra risorsa sui gulag molto interessante. Certo è che non si può parlare di gulag senza citare il primo Nobel, Alexandre Solzhenitsyn, perdonerete la mia pronuncia. Vissuto praticamente 90 anni, fu deportato in un gulag perché aveva criticato il regime in una lettera privata indirizzata da un amico, quindi questo fa già comprendere che non esisteva neanche il concetto di privacy, ovviamente, che è un concetto abbastanza recente, ma il regime aveva un controllo così capillare da controllare anche la posta. Nonostante poi, in realtà, lo stesso autore si fosse poi arruolato nell'armata rossa e avesse combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945 fu deportato in un gulag. E da questa esperienza vi è, vi sono due opere, scaduiscono due opere. La prima è un romanzo, una giornata con Ivan Denisovich, Denisovich, non vorrei sbagliare, e l'altra, molto più famosa, è Arcipelago Gulag, del 58. Un saggio che riuscì a uscire dai confini sovietici perché fotografato in un microfilm. Quest'opera ha un valore storico fondamentale perché rese noti all'Occidente le condizioni di vita dei gulag, e inoltre rende un quadro molto chiaro del clima di terrore sovracitato. L'opera è impreziosita da testimonianze che lo stesso autore raccolse. Quindi questo è un po', se vogliamo, un saggio. Mentre l'altra è un'opera letteraria, che ovviamente ha dei fondamenti storici. Questo è quasi uno studio. Perché? Perché le varie testimonianze raccoltenesse fanno comprendere come processi pubblici non fossero che delle mere farze e meccanismi dalla delazione alla condanna ai lavori forzati nei campi. Quindi specifiche i meccanismi che vanno da chi ha qualcuno che ha fatto, diciamo così, in maniera colloquiale, la spia, sino alla deportazione nei campi. Adesso, prima di concludere la lezione, andiamo a vedere quella che è un'altra risorsa importante sui gulag. Ecco qui la risorsa a cui accennavamo prima, è insieme sia una mappa geografica che segnala i vari gulag, che anche una timeline interattiva. Perché se io vado a premere play qui, avremo l'evoluzione di tutti i gulag. Ovviamente il raggio del centro corrisponde al numero di prigionieri. E quindi noi possiamo in qualche modo leggere la storia un po'. Questi sono gli anni che vanno appunto fino al 60, vanno dal 18, quindi all'indomani della rivoluzione, sino al 60. Cosa possiamo trovare più? Il sito si trova su un dominio russo, però è tradotto in inglese, quindi è comprensibile per chi non parlasse in russo. Qui ne abbiamo me. E poi se noi clicchiamo su camp types abbiamo vari tipi di campi, possiamo switcharli e vedere, qui vi è anche una spiegazione, vi è anche una spiegazione su quali sono queste tipologie di campi. Abbiamo poi ovviamente about e ci rimanda a delle informazioni introduttive, ci dicono che cos'è questa mappa, come è stata costruita, a quali fonti si riferisce, e in più, cosa molto interessante, noi possiamo di anno in anno cliccare su qualsiasi di questi, quindi è un lavoro veramente magistrale, per chi interessa, per chi ha curiosità di studiare la storia anche attraverso i dati, noi possiamo trovare la storia del campo, quale attività veniva appunto svolta, per esempio qui il logging, quindi che cosa, si tagliavano gli alberi, o comunque fa legnameria, il numero di prigionieri, ovviamente non è detto che ci sono sempre dati, quindi quando non ci sono i dati c'è no data, e poi ovviamente la fonte, e poi ovviamente la fonte, e questo lavoro in realtà è interessante, si può anche zoomare la mappa ovviamente, questo lavoro lo si può vedere appunto, questo lavoro qui, per ogni singolo, per ogni singolo campo, per ogni singolo gulag, ovviamente metterò il link di questa risorsa, metterò il link di questa risorsa nella descrizione del video, come è presente già nel blog, arrivederci quindi alla prossima lezione.